Chiediamo a Regis Chambert di American Express Voyage d'Affaires che cosa ne pensa di Bistrave Forum e com'è il mercato di Bistrave Forum adesso in Francia. Inoltre è sempre interessante avere un mercato, che non è virtuale ma reale, dove i servizi puoi con i clienti grazie a VET American Express e questo è davvero fantastico. Inoltre, in Francia avremo EVP, e in Shanghai avremo anche un evento come questo. Il mercato è inestabile, ma per il momento in Europa è ancora crescita con il compagno dell'anno. Siamo che sarà difficile, la crisi finanziaria sarà difficile. Ma anche noi sappiamo che il viaggio è un investimento per le compagnie. E ci siamo qui, per assicurare che hanno avuto un risultato a questo investimento. Perché hanno bisogno di viaggiare per sviluppare il loro negozio. Quindi, le persone in Italia possono accettare l'UVET AMEX support per questo. Come ha iniziato? Noi, Noi, la cosa a venire è.